La nuova Outback C'è il divisorio Il divisorio oro Non si può sbirciare Torna 1 vs 1 Le regole sono semplici Chi arriva per primo a 6 punti vince Bisogna utilizzare almeno una volta la nuova pratica Torn e voi Da che parte state? Siete Team Leo O Team Sound? Un po' pazza No ma perché? No ma ha preso un site sbagliato No come mi dispiace Senti come spara Oh Firei 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 Amore? Che succede? C'è un nemico dietro di te eh? Porca m*****a Che porca miseria eh Leo? Oh? La senti? Abbastanza te Io l'ho sentita La tua testa Su un piatto d'argento Le ringrazio E bacio Chi mi ha dato una mano? Chi è dalla mia? Salve su 1 Leo 0 Torn Uno degli obblighi Me lo sono già giocato Via Torn Non serve più La senti? La senti l'animazione All'imagine Quando io vinco le partite Questo è il primo 1 vs 1 Nella nuova season Interfaccia nuova L'io vecchia Però Aggressiva e cattiva Vecchia nel senso Scusami Non ho capito Che ho degli anni in più Nel senso che sono Nel senso che sei sempre la queen Ah Chissà come mai Da quando gli ho tirato un pugno Nell'1 vs 1 Non scherza più tanto Chissà come mai Puta caso Leo Però vieni con più delicatezza La prossima volta Sì hai ragione Scusa Cioè Un po' va bene Ma tutto sto burdi Leo Oh Tutto a posto No Ho paura Niente l'ho visto Eh sì Così Eh sì 2-0 Si vola Flying high Ti sei gasato abbastanza Adesso posso distruggerti Quindi Mi sa che lo sai Dove essere Cos'è Mi apre le porte Manco fosse casa sua Si può? Salve Mi sa che stiamo a giocare a nascondino Bella mina dietro Che non è saltata È molto bella Guarda tu come l'ha Spettato Io ti vedevo Io ti vedevo Tutto Perché sei bellissimo Proprio ti stavo ammirando Ma chi è che mi scatta le foto Ma chi è che mi scatta le foto? Ma io c'ho il tuono di Ma che cacca Cornamu Ma sei te? No no Io sono mutato Che c***o è sta cosa? Non so che Qualcosa mi scatta le foto Basta Basta Ok Comunque Falso bugiardo Che è ridentro Il site Ma chi è che scatta le foto? Ma dove? Ma dove? Ora lo fanno Che partiti scattano le foto? Tutto il tempo Se ti ho fatto Cic 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 Non so se l'ho fatta Oddio Io santo sta scammando Guarda che stavolta Ce l'ho gli angeli custodi Che mi dicono che guardi Guarda un coso Dove la riparte Ma che vuoi? Ma sei fuori di capoccia Dove la riparte? 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 come è fatta a levare la granata al tempo grido dai che riflessi porca miseria sono un leone per un motivo anzi una leona i riflessi della tigre 3 a 2 per me e parto in difesa intanto che lei è lì che fa la furba è arrivato per noi il momento di vendicarci del pugno e oggi è l'occasione giusta allora lei è in lounge sì assolutamente no in natura oddio ha fatto lo vu cicicciccac e cicicciccicc no cicciccicciccicciccicc fa la gazzetta col castle ma non può far nulla per usare una parola gentile contro le mie vertical mi hai fatto la seconda vertical praticamente ieri lì sì infatti ho sparato oddio 3 a 3 signori 3 a 3 vamos chi è proprio e non conosco la mappa c'è per me c'era un letto non so quanto sei 4 a 3 ma stiamo piangendo per niente tutto a posto ragazzi l'ho fatto per voi l'ho fatto per voi per farvi sognare signori a costo di perdere vigile litti e lo spettacolo ma nessuno ti guarda vabbè nessuno mi guarda no poverino l'ho spento talmente tanto ci sono rimasta male nessuno mi guarda mi sta guardando tutta youtube italia un saluto a youtube italia per il meme signori signori chi abbiamo qua se ero un cacciatore mi ero già levato la maglia e mostrato i tatuaggi sul pisello ma sei venuto subito comunque cioè non ci fa onore ascoltai a me puoi dire a tanti maschi sei venuto subito ma a me non me lo puoi dire signora sei venuto subito mi dispiace a me non me lo puoi dire questa frase ti ricordo che tu hai ancora torta da espletare v'ho fatto sognare o non v'ho fatto sognare via su lasciategli un like se no piange ma che uno cinquemila ha ragione lì si è presa torn eh ma io qui sono un attimo confusa dalla miriade di muri spawn è giusto let's push è match point per me eh coddio 5 a 3 è che fai droni porca miseria c'è una buona traiettoria lì ma porca miseria non sei morto quanta vita hai sono immortale mi sa guarda no no vaga no vabbè cacchio è sto bug che è sto bug è facile contro una persona che non gli possono ricaricare le armi che ne sapevo io ma hai mandato il fax di qua non è arrivato sei sul fax faccio come Bart Simpson col fax sai che ti mando cosa le tue chiappettine eh sono molto carine lo sai che mi sono sempre piaciute le tue chiappette è il round contorno l'abbiamo vinto eh così è il match point quanto siamo ora 5 a 4 5 a 4 va bene ma io vorrei fare una petizione comunque eh anch'io perché duca non si può mettere più corazze è uno scambio vero assolutamente almeno 25 mila corazze look una per ogni chilo marco madosca amore vedi quella che è la tua ombra si riesco a vedere dai nel mio schermo era una macchia nera scusami se uso anche i miei bellissimi occhi e i miei undici decimi per farti affettine scusami vabbè non vorrei dire ma abbiamo pareggiato pareggio questa è la bella no è pareggio e quindi ora che si fa eh non lo so pareggio chat che dite no eh mannaggia anch'io non so neanche dire ciò io lo so che ciò ah è brutto questo operatore non mi garba neanche niente quindi io che si fa mi è avvenuto il random eh si guarda caso proprio legion eh che uffo però che puoi vederlo non lo so che si fa ma non lo so facciamo a 7 spareggio ma così non sono secondarie non abbiamo più il cambio eh no ti venga da ammazzare ma anch'io vado nel dubbio d'ammazzo ti senti confident di vincere mi sento abbastanza confident io assolutamente penso che hai già vinto ma che era ma è tra i switch penso che hai già vinto mamma mia anzi sono abbastanza sicuro praticamente ti va il 95,7 per la cosa laggiù che brilla è la tua coscienza sono una cazzaladra ciao sei morto ciao lio scioppa 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 ma scusate ma non ho capito scioppa si chi arriva prima a sé che era la sfida salut le sfince ma stopper cioè ha detto per tutto ma per tutto il round ha detto cosa fate decidete voi chat la sfida era 5 a 5 ciao scioppa esattamente è un po' infame si ma me lo merito vigile elite la prossima volta cosa mi devo aspettare che fa ingaggia un ladro per farlo entrare in casa così mi spavento onestamente per questa infamata se lo merita perché è un'infamata talmente grande vile e schifosa che non so in un qualche modo va premiata perché nessun essere umano con un cuore l'avrebbe fatta grazie signori la cattiveria viene sempre premiata raga dopo il pugno in faccia una vendetta ma dopo prende però scusa eh è stato bellissimo essere fregata dal mio fidanzato così forza sound non 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 Grazie a tutti.